Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima e rivisitata da tantissimi artisti che è Hallelujah di Leonard Coyne. Cantare in Libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di 5 accordi in totale e sono Do maggiore, quindi se questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, Do, Mi, Sol, forma il Do maggiore, poi ci sarà il La minore, il Do, Si, La, La, Do, Mi, forma il La minore, poi il Fa maggiore, andando ancora indietro, La, Sol, Fa, Fa, La, Do, queste note formano il Fa maggiore, accanto c'è il Sol e noi prenderemo Sol maggiore, Sol, Si, Re, E poi ci sarà anche il Mi maggiore, che sappiamo Do, Re, Mi, Mi, Sol diesis, Si, forma il Mi maggiore. Questi saranno gli accordi da utilizzare. Vi faccio sentire come fa questa canzone. I heard there was a secret chord, the day we play and the please alert, but you don't really care from music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the path of Kim composing, hallelujah, 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 hallelujah. C'è un intermezzo e poi si ripete di nuovo dal Do tutto uguale come prima. Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoporte. Io vi lascerò come sempre in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi di questa canzone, in più due link su puntate per imparare gli accordi al pianoporte puntate presenti su questo canale e la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao, alla prossima!